Ho riferito che, credo nella serata di ieri, il segretario del Partito Democratico ha fatto delle affermazioni di questo tipo, ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione all'insulto a qualche tono forte utilizzato dal presidente della regione Campania. Devo ricordare al segretario del Partito Democratico che sono due anni che il presidente della regione Campania è insultato e attaccato personalmente da esponenti del Partito Democratico, in qualche caso, membri della segreteria nazionale. Due anni. Sono due anni che, anziché fare i conti con il governo Meloni, si divertono ad attaccare il presidente della regione Campania. Ora, devo dire che l'On. Schlen ha anche detto che è un peccato perché i toni forti che ha usato il presidente della regione poi finiscono per offuscare risultati importanti.